Ciao a tutti amici e amiche di VociFM, io sono Annalisa Bertucci ed io resto a casa. In questo periodo abbiamo due possibili scelte. Una, concentrarci su tutte le meravigliose cose che abbiamo qui fuori, arrovellarci il cervello in questo ed essere tristi e lamentarci. Oppure, possiamo concentrarci sulle cose meravigliose che possiamo fare, l'opportunità ad esempio di avere del tempo per sé o di trascorrere del tempo con i propri figli o familiari, videochiamate, sentire chi non chiamavamo da anni. La differenza fondamentale è una scelta, è la scelta di come affrontare il problema che definirà davvero quello che noi saremo domani. Quindi fate un sorriso, siate più gentili e state a casa. Ciao a tutti! Chi lavora con la voce è su VociFM, adesso anche Voci.net